buongiorno sono marco astore responsabile marketing di bg log nell'ambito della collaborazione con aism associazione italiana sviluppo marketing ho il piacere di invitarvi al webinar che organizzeremo con abb per parlare di temi quali ergonomia cobot e industria 4.0 sicurezza e miglioramento delle condizioni lavorative sono fattori che incideranno sempre di più sulla produttività ecco perché insieme ad abb abbiamo deciso di sviluppare un evento incentrato sull'ergonomia e sulle nuove tecnologie dell'industria 4.0 elementi oggi imprescindibili per aiutare gli operatori liberandoli da azioni ripetitive senza valore aggiunto ti aspettiamo il 24 novembre alle ore 18 bg log be clever work better grazie a tutti grazie a tutti